Abbiamo giocato un buon primo quarto, un quarto in cui c'è stato equilibrio, abbiamo fatto anche buone cose, abbiamo tenuto difensivamente, abbiamo provato ad alternare le difese per cercare di cambiare ritmo al loro attacco che sapevamo essere molto organizzato, competitivo e di grande aggressività. Poi appena sono iniziate le rotazioni, appena loro hanno inserito i giocatori della panchina che hanno fatto una partita eccellente, uno su tutti, Jimmy Baron. La gara si è un po' aperta, soprattutto alla fine del secondo quarto. Poi siamo rientrati nel terzo e lì la gara si è decisa. Devo dire un grazie a quei giocatori che questa sera hanno dato la loro disponibilità nonostante fossero veramente in cattive condizioni fisiche. Mi riferisco soprattutto ai due playmaker, a Mainor e a Bulleri, a Kangur, anche a Nozic che aveva un risentimento dopo la partita di domenica, però hanno provato e hanno dato la loro disponibilità e questo è da apprezzare e da sottolineare comunque.